Il sistema manifatturiero abruzzese è in ripresa, confermando un andamento decisamente migliore della media nazionale. È quanto emerge da uno studio realizzato da Confindustria Abruzzo e dal Centro Regionale di Studi e Ricerche Economico-Sociali. Secondo i dati elaborati, il 2018 ha registrato, rispetto al 2017, un aumento di circa il 3% dei principali indicatori, confermando il trend positivo sia per le piccole sia per le grandi imprese. A registrare le peggiori performance le medie imprese, soprattutto sul fronte dei mercati internazionali. Questi dati rivelano perfettamente uno spaccato dell'economia abruzzese, ha commentato l'assessore regionale alle attività produttive Mauro Febbo. Da un lato abbiamo le grandi imprese che continuano a far registrare fatturati con segno positivo, dall'altro abbiamo le piccole e medie imprese che continuano a soffrire. Pertanto, ha concluso Febbo, è urgente invertire la rotta e far tornare a respirare anche le piccole attività che sono il cuore della nostra economia. A livello provinciale, Pescara, quella a crescere maggiormente, con variazioni di circa il 9% di produzione, fatturato e ordini interni. Segue Chieti, con variazioni intorno al 4-5%, poi Teramo, che presenta variazioni inferiori alla media regionale. Fanalino di Coda, invece, l'Aquila, la provincia del capoluogo e la peggiore in Abruzzo. Aumenta la rilevanza percepita della digitalizzazione. Il presidente di Confindustria Abruzzo, Agostino Ballone, ha dichiarato come questo dimostra la necessità di interventi concreti per modernizzare le imprese e per adeguare l'impianto istituzionale e amministrativo.